non lo so vabbè mi metto ingegnere no? hai detto ingegnere squadra su ingegnere io te gabbo ma questo è per finire che faccio io ingegnere eh meni ma innanzitutto bisogna rifare la squadra ma cos'è si parte subito? no si parte subito eh porco dio sapeva ah vedi che puttana e allora rimaniamo così con le squadre che è stronzata però metti ma perché siamo americani? metti la soppressione più Petro facci il supporto noi siamo la squadra che ha da supporto al carro siamo liberi oltre varia della giardina siamo arrivati portcato e non l'amore ho messo l'antisoppressione vicinante però io ho avvicinato una strada la macchina tutto un bianco e nero o la cazzo sta bloccato su bravo aggredito lor cazzo occhio davanti al carro davanti al carro questo mezzo a noi ok non mi ha ammazzato uno sul cerdì metà che la fanno accamperare nero di nero porco dio amm320 si si raga stanno con l'm320 i tucciarmi non non mani fai entri tu da me non mi controlla alfa si arrivo no eh nasco subito su armi no non posso si sparano dall'angolino mezzo disattivato mezzo disattivato c'è assurdo salita lì a scala dei giardi sono qui fermo su alfa io queste le munzioni hit m320 ho preso ahia ahia questo va con m320 c'è stato l'agat è caduto l'agat porca troia m320 madonna oh raga e uso bannate quindi non è utile di lamentarsi c'è uso solo quello dico solo questo si lo so cassa delle munizioni sotto il culo e via è qui a sinistra credo dentro c'è un buoncino aspetta il carro aspetta il carro aspetta il carro eh la metto in qua munizioni metterlo giù metterlo giù aspetta che rimetto il voight perché c'è il carro metto un attimo il voight eh innaggilo che ti piace ma proprio che lasciate la anche l'agat è per caso è stato offline si l'agat è offline si l'agat è offline l'agat si è appena ricollegato l'agat è in base si l'agat è in base sono bravo fuori forse potete salire I've spotted a hostile soldier I've spotted a hostile soldier I've spotted a hostile soldier No 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 any I've spotted a hostile soldier It's not a hostile soldier You've got a very good soldier and I've got a bomb That's a hostile soldier You can't kill your soldier Ce n'è uno camperato sopra un container e due sotto Ho frizzato giudo! Vabbè, vabbè, ragazzi, oddio, da un camperato io! Ragazzi, anche loro non gli frizza, ma io... Finlandese Tutto è funzionato Dov'è come il mio best sit over here! Vabbè, caro che pia le mine è una cosa ridicola comunque Caro che pia le mine è ridicolo Oggi ce n'era una ricerca, dei ricerca, di obbligo No, porca proie, ma porca proie Sì, ragazzi, ci sono ancora 150 tickets, che bastano in casa Dai, cazzo! Si, tenete come cazzo, si deve il carro Porco Dio, il carro sulla mina non si può vedere, porca soia Giudo, esce, esce niente, giudo Carro sul bravo, carro sul bravo Carro sul bravo Carro sul bravo E' giudato, certo, è giudato Cazzo, certo, 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 certo Cazzo, cazzo Cine, lascia stare, andiamo su delba Dai, regali, nuovo 10 di 12, che cadono, questa volta Coglione Eh, giudo non è ancora rientrato Forco Dio, che era quello Cazzo, 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 cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo ok la via un po' e tra l'altro picco ma non è un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un volo ammere per il cano io cristo stegrante che si ricarica l'amore trappi ma non fa come che ci sono tre su bravo lo vedete il ciao tutti scappati da bravo tutti scappati da bravo perché perche' dottor dio c'era pieno ste scappai tutti ma perché ma rima il carro che deve entrare al prezzo e bravo rende avanti a Ah squadra su di un po' di classe Tenevo uno alla pietro da Nero di fronte Di fronte e dietro Dai dai con calma rega dai con calma Rega granate Stiamo su alto Sparate pure RPG ai palazzi Stiamo intanto a conquistare due palazzi No 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 Eh io l'ho fatto e l'ho matto più due palazzi Carro è partito Carro è partito Carro, carro Ok, ok, ci sono le mine che lo blocca in intanto Bello Sto alto, guarda carro Sto alto 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 No no, su alto, su bravo Lo dico, lo dico Lo dico Lo dico Lo dico Si spaffa qua la pallotta Su bravo, andate su bravo col carrile Niente Lo dico Su bravo. c'è gente ma scordiamo quando entra la campo non è mai no, aspetta, aspetta, aspetta dove è che puoi andare? delta? si dai, su delta, su delta, corriamo su delta dai, su delta, dalla base, dalla base, dalla base dai, io cazzo e baffanculo pure da Charlie niente, non convenio se passiamo dai cespoli da merda ma forse era meglio se si trova guarda, guarda, guarda che la carro liquiglia la mina porco dius, madonna, lì, lì, lì non state troppo così da spiegare mina, dietro si muove e' alfa, e' la feccia dai, c'è un medico lì accanto a me, tira su, porco dio dai, c'è un medico lì accanto a me, tira su, porco dio dai, andate su alfa 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 uno dietro il carro, dai, come cazzo fai tanto a me, tira lì, oh oh we can take the objective guarda, guarda, guarda quanti sono, da qui cazzo fu un po ma io non lo so cazzo capo eravigoti poter capo foro la tutta direzione a un metro cristo la tua guarda ma la tua mano la mia la vera di tutta la mia riprese del mio non ci vuole credere Ma... ma chi arrivi per noi? Oddio, ma chi cazzo è il terzo posto sul nostro, eh? Nel terzo posto c'è il Dark Dio maiale, L1, c'è la termica, chi cazzo è? Non tre devo uscire, quanti... Paiadi, mi parecchiano quel perfetto Eh, cazzo, il carro da mano Carro, oggi È bloccato in base e si aspetta È bloccato in base e si aspetta Bravo Lampage Bravo Lampage Ce ne sono tre a bordo, tre a bordo Bravo Lampage, ha regato, non è su Ma che cazzo Bravo raga, bravo, l'ho trattato, bravo, santa ria Guarda me l'ho sdraiato Vieni, vieni, glielo Spita il mico di scendere dal carro e riparare Guarda quanti cazzo sono Ma rimango io su dentro, ragazzo C4 di più no no è morto no ok ho ucciso quelli che andiamo su alfa andiamo su alfa non c'è nessuno un tiro non so chi cazzo l'hai detto ma quelli che erano su bravo un metto sanzo d'errore atto l'ho visto l'ho visto l'ho visto ma lo so ma che ci posso fare io dietro il cassonetti dietro il cassonetti capo c'è gente a destra no 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 il negozio l'uomo 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 spazio a mettere qua all'a no si certo perciò che mette i miei miei amore fortissimi io sono ritorno di traccia città ecco la pietra di rossi non è un nome ritorno a prendere tutta la mia ordina appartamento del verbo in uomo sempre dietro il sito studio teniamo ma c'è una persona accettata teniamo le basi, non attacchiamo i charlie dentro il negozio dentro il negozio dentro il negozio dentro il negozio dai suoi dai suoi bottini i blocchi andate da prestare di testa oh ma ne finisci e munizioni stronzo carolore in base ma che coglione che coglione in questo istante recuperano delta un attimo deve distruggere il carro carro su delta facciate la mina e anche il carro vado a prendere il carro ma qua, non sopra le mine è passato sopra del mio sto qua, oh nooo, il carro è un bravo è il carro, è il carro bravo, lampeggia il carro come cazzo è morto la cazzotta di me eh, è proprio qui, c'è tra un nulla se non porti all'altro non so come, non c'è un belaccio toghi di là, toghi di là, zebbra, toghi di là facciamo mettere in posizia giudo, andiamo su delta, la stanno prendendo bravo delta è nostra, delta è nostra no, c'è un... allora, che giuro, andiamo a scena la favevo, chi cazzo c'avevo dietro? me la dai una cazzo di mano? e stavo ancora sul palazzo, meni, si aspettate allora venite tutti su delta, venite su delta, su alpha ci va il carro e c'è troppo, troppa gente e guarda quanti sulla minimappa sono su delta, ho bisogno su delta ho bisogno su delta ho bisogno su delta si, ci sono su delta, dove sono? ma dove sono? io siamo tutti su delta ecco, era una scorsa era uno solo, dai cazzo era uno solo l'altro l'ho ucciso, meni era due è chi la, è chi qua, oh, meni oh, oh no, oh dove stai? eh, sono arrivato sul delta perchè nero, appena prendi alpha fassi e investe a dire tutto il giro ma non mi sono ah, per por diio vai la vostra come un sistema di merda facciamo una diversiva eh, lega oh, cristo dio ah, poi c'è un di qua, è una boh dai, lega te, te l'ho anche detto infatti, rilassi, siamo in qua su delta Dai Nero, presta, li vatti a mettere là Ma un attimo Hanno preso il carro Ho morto l'occhio sulla minimappa Hanno preso il carro, butta un kit Un attimo, un attimo Non ho più un colpo, Dio tanto Dove sei? No, 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 l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso Tiratemi su Da qua Ma che è vero, il carro dov'è il carro? Il carro secondo me è appena partito È su Alfa, il carro Oh, gatto, il carro È su Alfa Mi sa che Dark l'ha fatto L'animo, l'animo ingegnere Lei, l'hai di sotto, lo hai, zebra No, regà, no, no Per quale motivo c'avevo la nuanza di R con un parco di bambino? Regà, regà, no, dovete notare questa che da cesto libera, questa che si dà dalla loro base Ecco qua, ecco qua, borco demonio Chibnetico, chibnetico, chibnetico Bravo, bravo, bravo Bravo, lagat, pedro, venite in bravo subito Eh, troppo, bravo Cabo, bravo, no Uno rimanga su Delta Uno che rimane su Delta Ti farò fuori, eh Che cazzo non vedo niente Io Dai, facciera tutto Ma, vicolo, capo, c' ne ne abbiamo una domanda Eh, che c'è tanto Ma, se dia, la furdura Dai, fa fuori, la M320, madonna tanto C'è piena su Bravo Delta, uno del negozio Dai, sparaggi un cazzo di RPG di dentro, pedro è sotto, è sotto, è bella, senza 99, per favore, 99 dove sono gli altri? stai fermo lì, stai fermo lì che ti copro no, fulgoni no, stai recuperando bravo libera sono dietro il fulgoncino di bravo, eh? ferito vedo guarda uno dove è sponato il carro in giro di pace, il carro in giro di pace è su gianato no, si fu con la granata, no, si fu con la granata no, 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 io so carro su delta, raga, carro su delta carro su delta credito, presto, 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 presto arriva il carro, ho fatto una mina arriva il carro su alfa dalla salita carro va su alfa, facendo il giro ma il carro va su alfa, facendo il giro argo arriva, 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 arrivo, vi faccio il giro ma, credor, fumo al giro alfa l'ampezza arrivano su delta, arrivano su delta dalle scale va, forza, dai dalle scale, Cristo a destra, da destra sono le due, dalle scale 69,9 ci avete un medico appiccicato dal carro no, dio caro mi è diverticato di registrare il turno porco dio se mi buttano a cassa 66,2, dio maiale, andate a fanculo voi tutta la fila c'è, io stavo a testa, questa scendeva delle scale qui c'è fu l'impresa nel culo ma il punto avrò l'M320 in faccia ah, ma stò c'è questo mi piace no, non lo dobbiamo dire il culo ancora e che cosa si è? si si ma no, c'era uno usava solo, scusamente andava in giro con un in coppia con un support ma si sapeva, si sapeva, l'abbiamo già trovato in pubblico e questi usavano solo rpg e 3v cioè solo, prettamente ah, infatti hanno giocato tutto infatti hanno giocato tutto bravo nero complimenti per il punteggio è campionato col genere ora l'ha presa nel culo l'ha presa nel culo che par di palle raga, ma non è che hanno capito che c'è il doppio turno, usciamo prima che questi si mettano a giocare usciamo